salve a tutti oggi vorrei parlarvi di come individuare le inversioni di trend guardando solamente i grafici a candele osservandoli per bene noi possiamo scoprire molte cose allora come abbiamo detto un trend rialzista è una serie di massimi crescenti e un trend ribassista è una serie di minimi decrescenti ma che cosa significa realmente questo vediamo alcuni esempi questo è un grafico gbp usd con time frame a un minuto naturalmente queste cose che vi dico si possono applicare anche a grafici con time frame più grandi ricordate che comunque noi non ci muoviamo sul trend primario che ha circa la durata di un anno due anni ma noi ci noi ci muoviamo su periodi di breve tempo e quindi dobbiamo stabilire un trend per un periodo di breve tempo per poter investire nelle opzioni binarie allora guardate attentamente questo grafico a candele come potete vedere io ho messo una trend line rialzista perché ci sono dei punti in comune che vanno al rialzo questi sono i massimi che si formano 1 2 e 3 e come potete vedere questi massimi sono sempre crescenti per esempio il primo massimo arriva qui il secondo massimo arriva qui sempre in maniera crescente e il terzo ancora in maniera più crescente inoltre con questa trend line ci possiamo rendere conto che il trend è rialzista vedete questo è il minimo il minimo della candela questo minimo di questa candela è superiore a questo minimo di quest'altra candela quindi questo significa che il grafico va sempre crescendo guardiamo un altro grafico questo è un grafico usd jpy sempre con time frame a un minuto potete vedere la trend line qui ci troviamo in una fase decrescente abbiamo un trend ribassista guardiamo bene i grafici questo è un grafico euro sd con time frame a un minuto abbiamo un trend rialzista anche se a prima vista non sembrerebbe però tracciando la trend line possiamo vedere che il primo massimo arriva qui il secondo massimo arriva qui ed è più alto del primo massimo il terzo massimo raggiunge quasi il secondo massimo mentre il quarto massimo è molto più alto sia del terzo che del secondo quindi il grafico sta andando in una maniera crescente anche se molto lentamente e le candele non sono ben formate questo significa massimi crescenti i massimi devono crescere rispetto al massimo precedente qua è un grafico usd jpy con time frame a un minuto decrescente quindi abbiamo un trend ribassista allora ci accorgiamo tracciando la trend line ribassista allora questi dobbiamo individuare i minimi che devono essere decrescenti allora questo è un primo minimo guardate questo è un secondo minimo che decresce molto più del primo guardate questo è un terzo minimo che decresce di più del precedente e questo è un quarto minimo che diciamo che è parallelo a quello precedente può darsi che fra un po' avremo un'inversione di trend quindi minimi decrescenti significa che il minimo deve essere decrescente rispetto al precedente qui che cosa abbiamo? qui abbiamo una situazione di trend laterale come potete vedere le candele sono piccolissime qui improvvisamente abbiamo un trend ribassista probabilmente qui se avessimo messo delle medie mobili e la banda di Bollinger c'è stato sicuramente un breakout ribassista che comunque prevedo che non durerà molto perché la linea della trend line è molto obbligua poi questo è un grafico EuroCAD sempre con time frame a un minuto allora qui abbiamo l'inversione come si fa a vedere l'inversione a occhio nudo allora qui c'è un trend rialzista possiamo tracciare la trend line oppure la possiamo immaginare con l'occhio improvvisamente qui vediamo il trend ribassista che va a ribasso allora qua vedete per un trend rialzista i massimi devono crescere quindi primo massimo il secondo massimo è crescente rispetto al primo e il terzo massimo che è questo è crescente rispetto al secondo improvvisamente che succede il massimo che dovrebbe essere qui è decrescente rispetto al precedente massimo quindi ci possiamo accorgere tramite questo che il grafico sta cambiando in versione perché il massimo se il trend era ancora rialzista il prossimo massimo sarebbe dovuto essere superiore a questo massimo ma siccome il massimo è inferiore al massimo precedente probabilmente ci sarà un'inversione di trend infatti come potete vedere qua c'è stato un trend a ribasso un improvviso trend a ribasso ve ne potete accorgere anche di qua allora questi sono i minimi precedenti i minimi precedenti che questa è un diciamo che potrebbe essere un potrebbe anche essere una resistenza questa resistenza è stata bucata a ribasso vedete ve ne accorgete anche da questo queste linee magari all'inizio potete fotografare le immagini e crearle voi però col tempo con l'occhio nudo potete riuscirete sicuramente a immaginare queste linee e a vederle nel miglior dei modi quindi quello che vi volevo spiegare io è che quando si dice che un trend rialzista deve avere massimi crescenti significa che i massimi devono essere crescenti rispetto al massimo precedente mentre quando si dice che un trend ribassista deve avere minimi decrescenti significa che i minimi devono decrescere rispetto al minimo precedente vi ricordo del mio ebook audio ebook e video ebook pubblicato da Autostima.net un ebook per principianti investire in opzioni binarie con alcune tecniche di investimento che vanno da 1 a 15 minuti dove voi potrete imparare dalla A alla Z come investire nelle opzioni binarie e le varie tecniche e poi c'è il mio secondo ebook che ultimamente l'ho pubblicato sia in e-pub in pdf e sia su Amazon in formato kind è venduto da lulu.com è un libro di 117 pagine dove ci sono 6 tecniche di investimento per persone che magari già sanno che cosa sono le opzioni binarie e vogliono avere qualche tecnica in più per investire inoltre è spiegato come costruire un piano di trading per raggiungere i vostri obiettivi nel trend una volta che avrete letto questo libro vi garantisco che voi stessi sarete in grado di preparare una tecnica tutta vostra che magari rispecchi il vostro profilo psicologico spero di esservi stata d'aiuto e di avervi chiarito una situazione che poteva sembrare poco chiara ci rivediamo col prossimo video con una nuova e bellissima tecnica io vi saluto un bacio grazie ciao